Buongiorno a tutti, oggi vi volevo illustrare il grafico sull'andamento del settore desidenziale dal 1985 al 2007, dunque scusatevi un attimo sono completamente a ritardo e devo risolvere un problema familiare, dunque l'avete un volantino, sì, ecco, SOS Baby Online, sì, sì, pronto? Sì, buongiorno, scusate, sì, sono la mamma di Matteo Rossi, vi voglio chiedere una cortesia, sì, sì, sono già stata accettata, avete già tutti i miei dati, ho un problema di lavoro, ho un ritardo qui, è una riunione che non posso lasciare, potete andare a prendere mio figlio all'Asianunito, sì, la mamma di Matteo Rossi, sì, sì, grazie tante, grazie tante. Sa chi affidare i suoi bambini quando ha impegno e emergenze? Nessun problema, se ne occupa SOS Baby Online, un servizio online che metterà a sua disposizione un team di persone specializzate che si occuperanno dei suoi figli mentre lei non c'è. Noi saremo a sua disposizione in tempo record, un massimo di 15 minuti e ci troveremo ovunque lei abbia bisogno, ufficio, casa, parrucchiere e ovviamente soddisfatti o rimborsati. Deve solo venire da noi con un documento ed iscriversi, poi le basterà ogni volta che ne ha bisogno una chiamata o un click e saremo direttamente a casa sua. E non dimentichi di scaricare la nostra app disponibile in tutti gli store. Beh, che aspetta, noi siamo qui! Grazie a tutti!